E' la giornata più drammatica per il Molise sul fronte dell'emergenza coronavirus, ci sono altre cinque vittime, una di Campobasso, una di Isernia, una di Macchiagodena, una di Castelpetroso e una di Chiauci, tutti anziani che erano ricoverati in malattie infettive. E i nuovi casi sono 83 con centri più colpiti, Campobasso, Colletorto e Isernia a livello nazionale, oltre 31.000 nuovi positivi. Covid-RT pari a 2.1 in Molise, l'indice di trasmissibilità più alto d'Italia, ma secondo l'Istituto Superiore di Sanità la piccola regione è resiliente e per questo è inclusa tra quelle a rischio moderato. Domani il Molise ricorderà le vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia, in cui 18 anni fa morirono 27 bambini e la loro maestra Toma, uno dei momenti più bui della nostra storia. A Montecilfone è rinvenuto un insediamento archeologico con stratificazioni che vanno dall'età preistorica a quella medievale. Di particolare interesse è una sepoltura di infante e un edificio templare di età romana, la scoperta venuta alla luce durante i lavori del metanodotto Larino Chieti. Aveva addosso 25 grammi di cocaina e 8 di eroina, 31 anni di Campobasso arrestato dalla polizia, a casa aveva un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L'uomo si era approvvigionato in provincia di Foggia, la squadra mobile lo ha intercettato a Toro. Infine lo sport, il calcio, come gestire i casi Covid e quando rinviare le partite, l'AD del Campobasso, De Francesco chiede alla Lega di fare chiarezza. Vasto Girardi, domenica giornata storica, col Fiuggi si gioca al Ditella, Futsal, le Molisane tra le Muramiche. Bentrovati, nuova edizione del Tg di Teleregione in apertura all'emergenza coronavirus con i nuovi dati sempre allarmanti. Quella di oggi è stata una giornata drammatica per il Molise perché ci sono altre 5 vittime, tutte persone anziane, due di Campobasso, una di Chiauci, una di Macchiagodena e una donna di Castelpetroso. Loro non ce l'hanno fatta sconfiggere il virus e ci sono altri 83 nuovi casi nella piccola regione. Sui 633 tamponi processati nelle ultime 24 ore dall'ASREM aumentano anche i ricoveri. Ma sentiamo. La giornata più nera per il Molise sul fronte dell'emergenza coronavirus. La regione piange altre 5 vittime che ora complessivamente sono 37. Non ce l'hanno fatta 5 anziani che erano ricoverati in malattie infettive a Campobasso. Un 84enne e un 89enne del capoluogo, un uomo di 81 anni di Macchiagodena, uno di 98 di Chiauci e una donna di 77 anni di Castelpetroso. E la curva del contagio aumenta ancora. Ci sono 83 nuovi casi. Campobasso è il centro più colpito, 12, poi 8 a Isernia, 10 a Colletorto e ancora 6 a Boiano, 5 a Roccassicura, 5 a Santagapito, 3 a Sessano del Molise, 3 a Pesche e 3 a Guglionesi. 2 a Termoli, 2 a Bonefro, 2 anche a Castelpetroso, a Fornelli, a Larino, 2 a Longano, 2 a Montenero di Bisaccia e 2 a Oratino. Infine un caso a Belmonte del Sannio, a Carpinone, a Casa Calenda, a Colli al Volturno, a Macchiagodena, a Monte Roduni, a Riccia, a San Giuliano di Puglia, a San Massimo, a Santelena, a Sannita e un caso anche a Toro e a Venafro. 5 i nuovi ricoveri, tutti in malattie infettive. Ora la situazione complessiva parla di 17 degenti in questo reparto e di 6 pazienti in terapia intensiva. Gli attualmente positivi in Molise sono 969, in quarantena invece ci sono 993 persone, 9 i guariti, 1 di Sernia, 3 di Macchia, 2 di Pesche, 1 di Campobasso, 1 di San Martino e 1 di Montenero di Bisaccia. A livello nazionale nuovo record con oltre 31.000 nuovi casi. E l'indice di trasmissibilità del virus, l'RT, in Molise è il più alto d'Italia, 2.1. Questo è il dato che è emerso dal monitoraggio reso noto oggi dall'Istituto Superiore di Sanità. La piccola regione ha un rischio moderato, c'è però il dato ottimistico che è quello della resilienza. L'indice RT è arrivato a 1,7 di media, ma quello del Molise è il più alto d'Italia, 2.1. Questo è uno dei dati negativi dell'ultimo monitoraggio effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero. Studio che però attesta come la piccola regione sia la più resiliente. Questo grazie al buon grado di tracciabilità dei contagi, considerando che, come hanno reso noto Brusaferro e Locatelli, in questa fase, in alcuni territori è anche difficile raccogliere i dati. I numeri 1 dell'Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Superiore di Sanità hanno spiegato come l'epidemia si è in ulteriore peggioramento e che si prefigura già lo scenario 4 per alcune regioni, con rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo. Nell'arco temporale che va dall'8 al 21 ottobre 2020, l'indice di trasmissibilità calcolato sui casi sintomatici e che emerge dalla media delle varie aree di ogni regione, fa riferimento all'arco temporale che va dall'8 al 21 ottobre 2020. 11 regioni italiane, secondo i dati, sono classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata della malattia. Abruzzo, Basilicata, Veneto, Liguria, Val d'Aosta, Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana. Altre 8 regioni sono classificate a rischio moderato e tra queste c'è il Molise, insieme a Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Bolzano, Trento e Umbria. Quello che fa ben sperare invece è il tasso di resilienza, che solo in Molise è ottimistico, critico invece in tutto il resto del paese. L'incidenza del virus è passata da 146,2 casi ogni 100.000 abitanti a 279,7 ogni 100.000 abitanti. E l'ultimo dato fa paura, 31.084 nuovi casi, su un numero di tamponi aumentato a 215.085. Ora il ricorso a misure ancora più stringenti sembra per molti inevitabile. Evitare file disagi per sottoporsi a tampone, capire quando termina la quarantena. Queste sono alcune delle indicazioni inserite nelle linee guida che l'ASREM ha inviato ai sindaci per una più compiuta informazione alle comunità locali. Sentiamo di che si tratta nel servizio di Rita Iacobucci. Quando effettuare i tamponi e chi deve richiederli? Cosa accade quando i sintomi da SARS-CoV-2 insorgono in ambienti scolastici? Quanto durano le quarantene? Sono alcune delle informazioni contenute nelle istruzioni operative diramate dall'ASREM inviati ai sindaci affinché le veicolino alla popolazione. Per i casi positivi si legge nel documento e per i contatti stretti la richiesta di test molecolare a cura del Dipartimento di Prevenzione. Per i casi intercettati da medici di base e pediatri invece sono loro a dover fare richiesta inviando il modulo alla mail coronaviruschiocciolasrem.org. Sarà poi sempre l'igiene pubblica a programmare gli appuntamenti per effettuare il tampone. Eseguito il test all'utente vengono rilasciati username e password da utilizzare per entrare nell'area referti online del sito asrem.gov.it e avere il risponso. Quando in una scuola vengono segnalati sintomi riconducibili all'infezione il dirigente contatta il referente covid dell'istituto e quello scolastico del Dipartimento di Prevenzione. Insieme valuteranno se e chi sottoporre a tampone in caso di positività. Poi sempre di concerto saranno valutate misure di contenimento del contagio. Altro tema importante quando e come si può uscire dall'isolamento dopo una quarantena per covid. Gli asintomatici dopo almeno 10 giorni dalla positività e dopo un test molecolare negativo. Per i sintomatici servono almeno 10 giorni di isolamento e un test negativo che sia stato eseguito dopo 3 giorni senza sintomi. Chi pur non avendo sintomi risulta ancora positivo al tampone può interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa della sintomatologia. Infine i contatti stretti di positivo devono osservare 14 giorni di quarantena oppure 10 se c'è il test negativo effettuato per il decimo giorno. Per i contatti stretti dei contatti stretti invece non è prevista né quarantena né tampone. Ora andiamo a Sant'Agapito dove dopo la dura presa di posizione dei giorni scorsi il sindaco di Pilla ha chiuso il polo scolastico di Pietra Donata fino a data da destinarsi. Noi l'abbiamo sentito in questa intervista che ha rilasciato a Nicola De Santis. A scopo precauzionale il sindaco di Sant'Agapito Giuseppe Di Pilla ha chiuso da oggi fino a nuova ordinanza il polo scolastico di Pietra Donata frequentato anche dagli allunni di Castelpizzuto e Longano. La decisione del primo cittadino si è resa necessaria a seguito della positività al covid riscontrate in alcuni nuclei familiari con scolari all'interno. L'ordinanza è stata imposta dalla nostra amministrazione in quanto approfittiamo di questi giorni di festa diciamo ricorrenza dei morti e festa di tutti i santi e fine settimana per fare una sanificazione dei locali del polo scolastico considerato anche il fatto che comunque abbiamo delle situazioni un po' come dire sotto controllo e per precauzione abbiamo deciso insieme con l'amministrazione di Longano di fare questa ordinanza di chiusura temporanea fino a data da destinare ma sicuramente non appena ci sono le condizioni la prossima settimana appena dopo questi weekend riapriremo di nuovo il polo scolastico. Intanto dopo le polemiche dei giorni scorsi con le istituzioni sanitarie il sindaco di Pilla ha voluto smorzare le polemiche con i vertici ASREM ed anche con quelli regionali parlando di una situazione tutto sommato sotto controllo all'interno del suo comune. La situazione che io sappia ci siamo risentiti ieri mattina con le famiglie mi sono prodicato a sollecitare i tamponi che si dovevano fare nell'interno dei nuclei familiari dove comunque c'erano sindrome di febbre e altro questo perché per tranquillizzare sia le persone che sono in questo momento particolare a casa e sia tutta la popolazione. Massima attenzione, l'impegno nostro ci sarà sempre e l'appello che voglio fare è quello di evitare assemblamenti evitare anche durante questo periodo di fine settimana, inizio settimana di non accalcarsi nei cimiteri ma andare sempre con ordine mantenere la distanza e soprattutto mettersi sempre la mascherina sia all'aperto che al chiuso dove ci sono persone magari che cominciano a diventare più di uno, più di due, insomma dobbiamo stare molto molto attenti. Veniamo alla politica e all'interrogazione che ha presentato la capogruppo in consiglio regionale del Partito Democratico Michela Fanelli all'attenzione dell'assessore ai trasporti Quintino Pallante si tratta di un'interrogazione urgente e specifica per chiedere conto sulle attività che già si sarebbero dovute adottare dice Fanelli in materia di trasporto scolastico la situazione sanitaria in Molise vive un momento di estrema delicatezza in particolar modo siamo preoccupati per le scuole per le criticità legate al trasporto anche in considerazione delle prescrizioni contenute nel nuovo DPCM quindi un'interrogazione che verrà discorsa nella prossima seduta del Consiglio ed ora il sindaco di Montaquila Marciano Ricci che informa come sul territorio ci siano laboratori privati che effettuano tamponi anche a domicilio si consiglia quindi dice il sindaco Ricci ai cittadini che non vogliono attendere la chiamata dell'ASREM di mettersi in contatto con questi laboratori oppure di comunicarlo al primo cittadino stesso per il tramite della Polizia Municipale fornendo i nominativi delle persone interessate il servizio è a totale carico dei cittadini si ricorda che in ogni caso la Croce Rossa italiana effettua dei test sierologici e i tamponi nasofaringei rapidi nella sede di Isernia ma a proposito della Croce Rossa il primo cittadino di Montaquila ha anche annunciato che nelle giornate di martedì 3 novembre dalle ore 15 e 30 e giovedì 5 novembre rispettivamente in piazza Dante Alighieri a Montaquila e in via Veneziano a Rocca Ravindola nei due ambulatori medici la Croce Rossa effettuerà i test rapidi che consentiranno a chi si prenoterà a chi ne farà richiesta dietro il versamento di 20 euro di sottoporsi appunto al sierologico le persone interessate possono prenotarsi chiamando l'ufficio di pulizia municipale del comune di Montaquila al numero 0865 96 0131 0865 96 0131 per appunto prenotarsi al test sierologico il 3 e il 5 novembre a Montaquila è Rocca Ravindola ed ora andiamo a Termoli dove nel pomeriggio di oggi c'è stata la protesta dei ristoratori dei titolari di bar e palestre contro le chiusure dell'ultimo DPCM vediamo il servizio i bar sono sicuramente tra le attività più penalizzate di questo DPCM da marzo in poi come sta andando? sicuramente sì specialmente la mia ancora di più perché probabilmente serale se no è notturna quindi figurati ancora di più marzo eravamo appesi a un filo se andare avanti o no per fortuna siamo riusciti a andare avanti perché siamo riusciti a fare sotto detto l'estate ma non è che l'estate è stato un premio che il governo ci ha dato perché l'estate abbiamo sempre lavorato ogni anno è un punto di recupero per tutte le città turistiche no perché sembra che il governo ci ha dato l'estate in mano per farci fare due soldi e poi si può richiudere ma non è così perché noi di mare siamo una città di mare già lavoriamo l'estate per recuperare l'inverno quindi non è stato un regalo dello Stato è stato solo il nostro lavoro il nostro sacrificio di tutti adesso ci troviamo nella situazione che magari possiamo richiudere o già come stiamo adesso siamo mezzi chiusi diciamo nel senso che io la mia attività comunque non lavora comunque non porto i soldi a casa e l'affitto le devo pagare e le tasse le devo pagare quindi sono anche disposto a stare chiuso 20 giorni un mese ma tutti in modo tale che questa pandemia va via perché così il problema della pandemia non si risolve perché qui dentro le 18 la gente comunque si incontra fa e dice e quindi non risolve questo problema per risolverlo sono anche disposto a chiudere un mese per poter così lavorare nel periodo di Natalizio che sappiamo che si lavora perché facendo così rischiamo che questo sacrificio non serve a niente e che ci troviamo a stare chiusi a Natale e poi lì veramente la situazione penso sia grave per tutte le attività e domani ci sarà un ampio servizio abbiamo ascoltato l'intervista realizzata dal collega Emanuele Bracone un imprenditore di Termoli domani un ampio servizio con tante voci e altre testimonianze su questo malcontento diffuso anche a Termoli ed ora parliamo della giornata della memoria domani ricorreranno i 18 anni dalla tragedia di San Giuliano di Puglia quando il terremoto causò il crollo della scuola Francesco Iovine e quindi la morte dei 27 bambini della maestra di San Giuliano c'è il messaggio alla vigilia di questa ricorrenza del governatore della regione Donato Toma come ogni anno il 31 ottobre è un giorno triste per noi molisani 18 anni fa il Molise ha vissuto uno dei momenti più bui della sua storia sono stati testimoni di quei giorni drammatici il crollo dell'edificio scolastico di San Giuliano ha lasciato un ricordo indelebile generato una ferita insanabile non voglio che nessuna mamma e nessun papà pianga più i suoi figli quindi da parte di Toma un monito importante per il futuro ora non è il tempo delle analisi dei consuntivi è il momento del ricordo della memoria della commemorazione quei 30 rintocchi di campana non rappresentano solo il simbolo evocativo di una tragedia sono un monito per chi amministra la cosa pubblica affinché i simili eventi non si verifichino mai più e c'è un messaggio anche da parte del presidente della provincia di Campobasso il sindaco di Termoli Francesco Roberti in merito a questo anniversario la giornata della memoria dice Roberti deve essere un giorno di ricordo ma anche un monito in tema di sicurezza degli edifici scolastici affinché tragedie come quella di San Giuliano non accadano mai più e io garantisco dice Roberti il mio massimo impegno su questo fronte ora andiamo a Monte Cilfone dove è stato ritrovato un insediamento archeologico con stratificazioni che vanno dall'età preistorica a quella medievale tra i rinvenimenti di particolare interesse sono stati rilevati un tracciato viario un edificio templare di età romana due fornaci a pianta rettangolare con muro assiale che si sovrappongono a resti di un abitato databile ad età protostorica periodo della preistoria con inizio 8 mila anni a.C. il sito include anche una sepoltura di infante deposto con corredo vascolare e con due ovini databili all'età neolitica l'importante sito archeologico ha detto il sindaco Giorgio Manes è venuto alla luce in occasione dei lavori per la realizzazione del metanodotto Larino Chieti parzialmente scavato nell'ambito delle attività di archeologia preventiva e il primo cittadino ha annunciato che si sta già pensando alla realizzazione di un museo su quel sito la cronaca adesso la polizia di stato ha intercettato sulla strada statale 645 in territorio di Toro un'auto con a bordo tre soggetti due diciottenni e un uomo di 31 anni tutti i campobassani con precedenti per droga uno di loro il più grande è stato arrestato ora si trova ai domiciliari a seguito della perquisizione operata dalla squadra mobile è stato trovato in possesso di 25 grammi di cocaina e di 8 grammi di eroina con molta probabilità si era approvvigionato in provincia di Foggia in casa nascondeva sostanza da taglio materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione l'uomo è stato quindi arrestato posto ai domiciliari come detto gli altri due soggetti invece denunciati a piede libero per concorso in detenzione di droga ai fini di spaccio ennesimo episodio di violenza nel carcere di Campobasso pochi giorni fa l'aggressione a un agente di polizia penitenziaria da parte di un detenuto su questa vicenda abbiamo ascoltato il segretario del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo continue aggressioni rivolte e spaccio di stupefacenti nel carcere di Campobasso scene di ordinaria follia l'ultimo episodio di violenza visto un detenuto staccare a morsi parte dell'orecchio di un agente di polizia penitenziaria trasportato d'urgenza al Cardarelli si tratta di un detenuto con seri problemi psichiatrici e proprio sulla condizione di detenzione di tali soggetti è intervenuto il segretario del sindacato di polizia Aldo Di Giacomo il quale ha evidenziato tutte le criticità presenti nella casa circondariale del capoluogo l'amministrazione penitenziaria è da anni che da quando ci sono chiusi gli ospedali psichiatrici hanno gridato che tutto era in qualche modo risolto il problema dei psichiatrici in realtà non è così oggi abbiamo 470 detenuti psichiatrici riconosciuti psichiatrici che stanno nelle carceri evidentemente la gestione dei detenuti psichiatrici all'interno degli studi penitenziari è complicatissima ma non dovrebbe essere affidata allora dovrebbero stare all'interno delle rems purtroppo i posti a disposizione sono tutti finiti e c'è un altro problema io ho già inviato una lettera anche al ministero della giustizia per valutare se questo detenuto aveva avuto tutte le cure gli erano state fatte tutte le visite necessarie per salvaguardare la sua incolumità il suo stato di salute di conseguenza di salvaguardare lo stato di salute di tutti gli operatori penitenziari e degli altri detenuti cosa bisognerebbe fare per evitare che questo accada bisognerebbe che i detenuti psichiatrici riconosciuti non stiano all'interno delle carceri loro devono essere curati in centri appositi aveva un contenzioso con l'Enel e più volte era stato invitato a saldare il debito quando i tecnici dell'azienda si sono presentati a casa sua per chiudere il contatore l'uomo di 83 anni di San Giuliano del Sannio ha inventato un falso tentativo di truffa chiamando i carabinieri che giunti sul posto però hanno scoperto il tentativo di truffa e denunciato l'anziano per procurato allarme quale futuro per lo stabilimento Unilever di Pozzilli e questa è la domanda della CISAL ai vertici aziendali pronti a nuove forme di protesta il cronoprogramma stilato al Mise è stato disatteso questo ha dichiarato il sindacalista Antonio Martone la CISAL torna a chiedere chiarezza ad Unilever in merito allo stabilimento di Pozzilli ed annuncia forme di protesta anche eclatanti che coinvolgeranno i lavoratori il cronoprogramma concordato al Mise tra aziende e parti sociali è stato disatteso per Unilever ha spiegato il responsabile CISAL Martone Pozzilli è un capitolo ormai chiuso perché la sua chiusura è meno costosa e difficile di Casal Pusterlengo lo dicono i numeri meno lavoratori popolazione più anziana territorio da incanalare con facilità in percorsi illusori e privi di fondamento popolazione che per differenza generazionale è più facile da dividere per il sindacato se Unilever avesse avuto davvero un progetto alternativo per Pozzilli lo avrebbe dovuto presentare da tempo e invece a novembre del 2019 esattamente un anno fa su sollecitazione delle parti sociali l'azienda ha prima negato e poi letteralmente inventato non una ma tante soluzioni con l'unica finalità di prendere tempo e ha avuto ragione della nostra debolezza e della nostra ingenuità si è presa tutto il tempo che le serviva se Unilever avesse davvero voluto creare le condizioni per un rilancio di Pozzilli avremmo assistito ad un altro percorso ben diverso da quello che abbiamo fatto negli ultimi dieci mesi durante i quali siamo stati spettatori di acrobatici cambiamenti di prospettiva dalla plastica alle batterie per le auto elettriche intanto i lavoratori hanno continuato a contribuire risultati aziendali con la loro proverbiale professionalità con resilienza e senso di responsabilità lo hanno fatto nonostante l'incertezza nonostante l'indifferenza dei vertici Unilever che hanno sospeso qualunque contatto con il sindacato e con le istituzioni l'ultimo incontro ufficiale risale infatti a luglio del 2020 i lavoratori ha concluso la Cisal hanno il diritto di capire cosa stia accadendo hanno il diritto di essere trattati con rispetto e in gioco il futuro loro e delle loro famiglie la Cisal chiede ad altavoce che la Unilever renda conto del mancato rispetto delle tempistiche che essa stessa aveva annunciato al mese e soprattutto chiede di sgombrare definitivamente il campo da false promesse e giochi di prestigio Unilever dica chiaramente una volta per tutte che non ha alcuna intenzione di mettersi a riciclare plastica in un impianto che produce detergenti liquidi la Cisal chiede che si smetta di giocare sulla pelle dei lavoratori indiscrezioni lasciano intendere che si sta pianificando un nuovo incontro addirittura a febbraio del 2021 di fronte ad un simile comportamento e a difesa della dignità dei lavoratori e del territorio la Cisal si dice pronta ad agire concordando con i lavoratori un percorso di protesta e di contestazione L'associazione degli edili contro il divieto di licenziamenti con una nota firma del presidente Danilo Martino l'Ace Mance Molise si è rivolta ai parlamentari del Molise per esprimere appunto la contrarietà al divieto di licenziare fino al 31 gennaio che è previsto dal decreto Ristori divieto che seppur in parte è mitigato dall'esonero contributivo di quattro settimane stabilito per i datori di lavoro che non dovessero fare ricorso agli ammortizzatori sociali rappresenta per Danilo Martino comunque un grave endica per le imprese dili che sono solite cessare o sospendere i cantieri proprio in questo periodo dell'anno scusate dopo l'incidente dopo l'incidente di dieci mesi fa sulla Statale 17 nei pressi di San Massimo Isernia Soccorso ha acquistato una nuova ambulanza e a ritirarla è stato il volontario è stato il volontario che ebbe un malore proprio mentre era alla guida del mezzo è stato un anno difficile per Michele culminato però con una soddisfazione che allevia il dolore di quanto vissuto il volontario dell'associazione Isernia Soccorso che il 12 dicembre 2019 venne colto da infarto mentre conduceva a Campobasso una paziente d'urgenza è appena tornato da una trasferta a Toscana è stato lui a portare alla base la nuova ambulanza a mezzo di ultimissima generazione dotato di tutti i supporti meccanici e tecnologici per garantire alle persone che ne avranno bisogno quanto di meglio possa esserci per le terapie da somministrare durante un trasferimento purtroppo la donna che Michele e i suoi colleghi stavano trasportando quel giorno al Cardarelli non ce la fece ma è anche per lei che Isernia Soccorso ha voluto aumentare maggiormente il tasso di sicurezza e professionalità l'operatore colto da Amalore non riuscì a controllare l'ambulanza che si schiantò contro il muro di una casa apposta al margine della Statale 17 all'altezza del Bivio di San Massimo Michele venne rianimato trasportato d'urgenza in ospedale e qui fu sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico al cuore ora sta bene è rientrato in servizio e ha voluto ritirare la nuova ambulanza che Isernia Soccorso ha acquistato al posto del mezzo incidentato dissequestrato dal giudice del Tribunale di Campobasso la scorsa settimana l'associazione Isernina specializzata nel servizio d'emergenza e convenzionata col 118 nonostante il periodo di crisi e nonostante le difficoltà legate all'emergenza coronavirus ha deciso di sostenere un grosso sforzo economico pur di garantire continuità assistenziale all'utenza della provincia Pentra è il momento del meteo scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore previsioni del tempo per sabato 31 ottobre sul Molise cieli sereni o poco nuvolosi venti moderati dei quadranti nord orientali mare poco mosso temperature senza particolari variazioni vediamone nel dettaglio Campobasso minima 10 massima 19 gradi Isernia minima 9 massima 19 gradi termoli temperature comprese tra i 18 e i 20 gradi mena afro minima 11 massima 20 gradi ed ora solo qualche istante di pausa non andate via tra poco ci rivediamo per lo sport eccoci di nuovo insieme per parlare di calcio di serie D sappiamo che domenica non si giocheranno la partita del Campobasso con l'Alba Longa e anche quella tra la vastese e l'Olimpia agnonese e ci sono in merito le dichiarazioni della D del Campobasso la Lega deve fare chiarezza su come gestire i casi covid queste le parole di Raffaele De Francesco che ieri sera è stato ospite di Molise Sport e la trasmissione di Francesco Presutti e quindi sentiamo uno straccio del suo intervento una città come Campobasso la regione Molise che segue il club per noi rappresenta un introito importante il botteghino lo scorso anno abbiamo interrotto il campionato nell'ultima partita eravamo 4.000 persone allo stadio quello di Pianionese con una capienza che quest'anno stiamo ultimamente ampliando perché da poco è stato affidato un progetto del comune è stato appaltato per un ampliamento che riporterà lo stadio a 7.200 posti e poi c'è l'altro intervento importante della regione che vedrà la realizzazione entro giugno 2021 di 14.000 posti quindi uno stadio a un certo livello per poter come dire auspicandoci chiaramente il salto di categoria che l'anno scorso purtroppo è stato interrotto dalla covid e speriamo che quest'anno non abbiamo lo stesso percorso come l'hanno presa i ragazzi il mister questa gara rinviata insomma contro l'Alba Longa allora sicuramente non bene anche se eravamo consapevoli che prima o poi sarebbe accaduto pure al campo basso nel senso che ci sono già diverse partite rinviate in diversi gironi è chiaro che non ci aiuta neanche il protocollo della Lega Nazionale perché comunque basta un positivo in squadra un contatto che si ritiene opportuno rinviare la gara per poi sottoporre tutti a tampone questo diciamo è un regolamento che rispetto a quello dei professionisti un po' ci penalizza però andrebbe rivisto andrebbe un po' rivisto perché chiaramente altrimenti si rischia veramente di saltare molte partite e questo poi crea chiaramente difficoltà perché una cosa è giocare ogni domenica una cosa è poi recuperare nei turni infrasettimanali quindi si rischia poi di giocare due volte una settimana un mercato e la domenica c'è l'affaticamento c'è sicuramente come dire i tempi si allungano anche del campionato quindi crediamo che un intervento della Lega ci debba essere in questa direzione perché attualmente ripeto il protocollo è molto molto blando e finalmente il Vasto Girardi giocherà nel suo stadio nell'impianto di Tella e quindi domenica sarà sicuramente una giornata storica per tutta la comunità evento storico per il Vasto Girardi domenica l'esordio in serie D dei giallo-blu al di Tella l'impianto rimesso a nuovo e dotato di erba sintetica ospiterà il match che gli altomorisani disputeranno contro il fiugi degli ex Agnonea Costa Frabotta e Diarrà un evento atteso da tutta la comunità il paese con il minor numero di abitanti dell'intero panorama della serie D ospiterà per la prima volta nella sua storia una gara di interregionale proprio tra le muramiche l'undici di Mr. Prosperi conta di racimolare i punti che serviranno a preservare la categoria l'incontro si disputerà a porte chiuse e si annuncia scoppiettante da un lato una delle blasonate del raggruppamento che punta a militare nelle zone nobili della gradatoria dall'altro una delle rivelazioni di questo inizio di stagione il vasto Girardi ha acquisito consapevolezza nei propri mezzi e giocherà a viso aperto contro un undici sulla carta più forte partita dunque aperta ad ogni risultato Ruggeri e Soci hanno dimostrato di avere la determinazione e la stoffa necessarie per giocare alla pari anche contro rose più competitive il giocattolo allestito senza spese folli dal DS Marinucci Palermo e dal direttore generale Antonio Crudele sta andando oltre ogni più rose aspettativa e non ha alcuna intenzione di fermarsi prosperi all'imbarazzo della scelta tutti gli elementi sono a disposizione dell'allenatore che avrà inoltre la possibilità di gettare nella mischia l'attaccante Saladino che ha scontato i cinque turni di squalifica immediati la scorsa stagione dunque ci sono tutti i presupposti per vincere la partita e regalare alla comunità alto molisana un'altra domenica indimenticabile ed ora il calcio a cinque vediamo la griglia delle partite in serie A2 per ciò che concerne il girone C quello del CUS e allora il CUS gioca in casa contro il Manfredonia poi c'è Capurso Futsal Cobà Giovinazzo Pistoia è stata rinviata Lucrezia Atletico Cassano e poi Rutigliano Ortona Gubbio Castelfidardo questa sarà la terza giornata quella che si celebrerà domani alle ore 16 sempre domani in serie B nel girone G vediamo le partite Barletta Itria Diaz Canosa Mirto Torremaggiore Real Dem Chaminade invece si giocherà a campi invertiti perché il Real Dem ha chiesto l'inversione di campo quindi Chaminade Real Dem San Michele Molfetta e lo Sporting Venafro ospita il Bitonto Ed ora vediamo le ultime dei palazzetti ascoltiamo le ultime dei palazzetti nel servizio di Vincenzo Ciccone Tutte in campo e tutte in casa le tre molisane dei tornei nazionali di Futsal di Serie A2 e B leader della classifica nel raggruppamento C di cadetteria il CLN Cus Morise ospita il palaurimo e l'inseguitrice Manfredonia il tecnico Sanginario è chiaro su come i suoi dovranno affrontare la contesa è un momento delicato spiega alla vigilia dobbiamo solo cercare di pensare positivo per la Chaminade invece nella Serie B secondo match interno consecutivo per la richiesta del Real Dem dell'inversione del campo l'obiettivo da parte degli uomini di Tavone è quello di rispaccattare la battuta d'arresto dei sette giorni prima sempre allo Sturzo contro il San Michele altro team pugliese come il Bitonto invece sulla strada dello Sporting Venafo del tecnico di Padua che punta a sbloccare l'attuale fastidiosa quota zero della propria classifica figlia della sconfitta all'esordio nel derby con la Chaminade e della sconfitta di sabato scorso in casa del Molfetta e salta la partita della Magnolia Basket Campobasso che era in programma domani sera a Sassari la formazione isolana infatti ha due casi di positività al coronavirus nel proprio staff tecnico il capo allenatore Restivo e il suo assistant coach Zucca motivo questo alla base della richiesta di rinvio a data da destinarsi del match situazione peraltro accordata dalla federazione da parte del club isolano saranno solo quattro quindi le partite che si disputeranno in questo weekend del sesto turno del campionato nazionale di serie A1 femminile di basket bene questa era la nostra ultima notizia io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi invito a rimanere su Teleregione arrivederci grazie a tutti a tutti grazie a tutti Grazie a tutti